Bene, parliamo del centenario del Chieti, sicuramente un momento importante per la storia del club neroverde. Lo facciamo volentieri oggi con Stefano Marchionno, avvocato Stefano Marchionno, che è il presidente del comitato promotore di queste celebrazioni che cominceranno da gennaio. È un momento da sottolineare per la città dal punto di vista sportivo calcistico, no? Sì, è una ricorrenza molto importante, tant'è che per tempo ci siamo mossi per organizzare il tutto. Il comitato è stato costituito il 6 settembre, siamo in dieci, siamo tifosi, siamo appassionati, abbiamo questa malattia che non va più via e quindi abbiamo deciso… È una bella malattia. È una bella malattia, sì, anche perché poi i ricordi che riaffiorano sono tanti e diversi, però 100 anni, un secolo di vita è una data che merita di essere festeggiata, ricordata e onorata, più che altro anche per creare quell'entusiasmo e quell'innamoramento ai colori neroverdi e per raccontare qualcosa alle nuove generazioni di quello che è stato. Anche perché, io aggiungo, questa è una mia considerazione, non so se è d'accordo l'avvocato, i colori sono patrimonio della città più che della società che in quel momento gestisce. Esatto, sì, sì, concordo. Tant'è che sappiamo tutti che a Chieti ci dividiamo su qualsiasi cosa, Chietiscalo, Brecciarola, San Martino, l'unica bandiera che ha unito sempre la città è quella nero-verde. Quando siamo allo stadio, quando si sta nei bar, nelle piazze a parlare, a discutere di calcio e del Chieti, esiste solo il Chieti, quindi non esiste Filippone, non esiste nient'altro. Ed è veramente, forse, l'unico elemento unitario che unisce la città. E poi, una cosa bella del perché il Chieti è nero-verde, perché sappiamo benissimo che più o meno le squadre di calcio hanno come colori sociali i colori del gonfalone del comune. Il gonfalone di Chieti non è sicuramente nero-verde come ad esempio l'Aquila. Però questa è una storia che poi racconteremo con una delle prime manifestazioni che faremo a fine gennaio. È figlia della Prima Guerra Mondiale, perché sappiamo tutti che dopo la disfatta di Caporetto, temendo che Venezia potesse essere bombardata e quindi rasa al suolo, da Venezia trasferirono a Chieti l'archivio comunale, l'archivio storico comunale, e si trasferì anche tutto il distretto militare. E in quegli anni Chieti ospitò addirittura 12.000 profughi del Veneto, ben 4.000 veneziani. Finita la Prima Guerra Mondiale, ritornarono i veneziani, i veneti, nelle loro terre, e qualche anno dopo fu ritrovato un baule nei sotterranei di Palazzo d'Achille a Chieti, fu aperto il baule e furono trovate delle magliette nero-verdi. Da allora la Chieti Calcio è nata, in quegli anni è in segno di gratitudine verso Venezia, indossa i colori nero-verdi, che poi tra l'altro, sempre parlando di storia, dall'androne di Palazzo d'Achille, che in perenne ristrutturazione dal terremoto dell'Aquila del 2009, speriamo che prima o poi riapra, c'è un basso rilievo con Leone di Venezia, che regalò la Municipalità Lagunare a quella teatina per ringraziarla per l'ospitalità nel corso della Prima Guerra Mondiale. Bellissima storia, origini, passione soprattutto. Ogni mese, da gennaio 2022 a dicembre 2022, sarà celebrato, per così dire, un evento. Sì, le nostre intenzioni sono queste. Partiremo l'8 gennaio con una cerimonia di inaugurazione di una targa commemorativa da porre sul muraglione della Civitella, in via Pianel, l'ex campo sportivo di Chieti, quindi in ricordo dei giocatori e allenatori che hanno calcato quel campo. A seguire ci sarà una messa in cattedrale celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Bonoforte, l'Arcivescovo di Chieti Vasto. Poi a fine gennaio ricorderemo la nascita dei colori nero-verdi e sicuramente inviteremo anche il sindaco di Venezia. Diciamo che nelle nostre intenzioni è quella che deve essere una manifestazione più istituzionale. A fine febbraio invece faremo un evento per noi tifosi, quindi racconteremo l'evoluzione del tifo nero-verde dal campo della Civitella, quindi le immagini che vediamo in bianco e nero fino ai giorni nostri, raccontando con le esperienze personali cosa hanno vissuto, cosa voleva dire andare alla Civitella oppure andare in trasferta in periodi, in periodi in cui gente che andava con l'autostop, cioè sono veramente pionieri di quello che vediamo oggi. E invece a marzo... E che non vediamo più. E che non vediamo più. Tant'è che noi domenica prossima abbiamo il derby col Vasto, non andiamo a Vasto perché la trasferta è vietata. Purtroppo è così. E poi infine a marzo, sempre per raccontare le origini, punteremo sui dirigenti e presidenti che sono alternati. In questo sicuramente inviteremo, ci tengo a dirlo anche perché ci dispiace, per come si è sentito Antonio Buccilli, un presidente che ex post, riconosciamo, che ha dato tanto a questa società, quindi avrà sicuramente un ruolo importante a marzo dell'anno prossimo. Buccilli è chiaro, insomma, ha vergato una pagina assolutamente indimenticabile nella storia del calcio nel loro verde nel 2001. La promozione in C1, il Chieti che vince a Napoli nella sua gestione, probabilmente chissà quando succederà. E spugnare il San Paolo ce lo ricordiamo un po' tutti. Assolutamente. Poi in tutto questo ovviamente faremo delle mostre, allestiremo in concomitanza, quindi gli eventi li faremo dentro il Teatro Marruccino e nel foyer invece faremo le mostre, quindi a gennaio faremo le mostre, allestiremo una mostra sulle magliette storiche. A febbraio invece sarà una mostra fotografica appunto sui tifosi, sulle gradinate di una volta, e anche recenti, e invece a marzo sui trofei vinti dalla società sportiva. In questi mesi abbiamo cominciato a contattare gli ex giocatori, gli ex allenatori, abbiamo chiesto loro di farci dei video, di auguri. La cosa che veramente ci ha meravigliato, ci ha stupito in positivo, tant'è che mi viene da sorridere, che hanno risposto tutti, tutti presenti, ci hanno mandato di video, ho il telefonino pieno, perché nella nostra pagina Facebook del Comitato ogni giorno mandiamo un videomessaggio. Hanno speso e spendono veramente bellissime parole per la città, per la piazza e per la squadra di calcio. Da Fabio Grosso, Enrico Chiesa, Stefano Sgherri, Gigi Decanio, che lo conosciamo, lo conosciamo come allenatore, perché oggi è allenatore, però... Ex difensore. Esatto, esatto. Primi anni 70. Sì, sì. Poi, fine anni 70, poi abbiamo avuto Claudio Berlanda, Ciceri, tantissimi Pagliari, Giovannino Pagliari. Certo, insomma, avere avuto nella storia gente come l'Icito, in ordine cronologico, Chiesa, Quagliarella e Grosso, tanta roba. Tanta roba, tanta roba. Peccato che ci hanno abbandonato e hanno fatto carriera dopo di noi, però noi siamo contenti così, soprattutto perché Fabio ci ha regalato il Mondiale del 2006 e quindi non ha fatto gioire soltanto noi tifosi neroverdi, ma l'intera nazione. Avvocato, è stato un piacere ospitarla nei nostri studi. Torneremo a parlare sicuramente di questo fantastico centenario. Grazie a voi per l'ospitalità.